Il fronte temporale previsto per la conclusione dei lavori di interramento della ferrovia nell'abitato di Andria resta il 31 dicembre prossimo, mentre è cambiata la possibile data di consegna del nuovo mercato ortofrutticolo in zona PIP. Qui, dal 31 agosto, si passerà presumibilmente a fine ottobre. Sono le principali novità che arrivano dai lavori che stanno caratterizzando centro e periferia della città di Andria da ormai quasi quattro anni. Sono comunque state completate le attività di scavo e copertura del tratto che porta dal monumento ai caduti alla villa comunale dove il treno passerà completamente in galleria. Completate anche le coperture della parte centrale della stazione di Andria centro e della fermata di Andria nord. Dalle immagini aeree sul cantiere è possibile ora avere un quadro ben più chiaro di come sarà il progetto una volta terminato con la parte di ferrovia completamente tombata, quella a ridosso della stazione parzialmente e poi il resto a cielo aperto. C'è un punto in cui ancora però si scava in corrispondenza di via Vecchia Barletta dove è stato rinvenuto un cosiddetto ammasso di roccia dura. La ferrotranviaria comunque spiega che si dovrebbe riuscire a chiudere lo scavo in quel tratto entro fine settembre. Si stanno completando anche i muri della trincea nei pressi dell'attuale sede del mercato ortofrutticolo di via Barletta. Nel frattempo è in fase di avvio anche la posa dell'armamento ferroviario oltre che delle barriere antirumore e delle recinzioni. Poi ci sarà da realizzare le finiture e cioè le piste ciclabili e i marciapiedi. Nel frattempo l'impresa esecutrice dei lavori ha restituito al comune le aree di via Terenzio necessarie per la realizzazione di alcune opere contenuti nei Pinqua. Nel frattempo stanotte sarà completamente chiusa al traffico veicolare via Biceglie sino all'alba di domani mattina per consentire di terminare le opere necessarie alla posa del ponte. Tutte opere che devono scontrarsi inevitabilmente con la corsa contro il tempo delle scadenze imposte dall'Unione Europea.